Per Olympica Basket ed Allianz Udas Basket proseguono le trattative di mercato e le composizioni dei rooster in vista del campionato di Serie C Silver 2015-2016 che partirà il prossimo 20 settembre. Per la formazione giallo-blu guidata da Rosario Saracino c'è un ritorno clamoroso, quello di Milo Bacchini, già autore insieme a Petrito Rubera della famosa promozione in Serie C quando al timone della squadra c'era Felice Carano, contento, Bac, come viene chiamato, di poter tornare a rivestire una maglia che è stata inimportante per lui e per la città. Per quanto concerne invece l'Allianz Udas Basket continuano le trattative per poter avere un rooster competitivo e che possa puntare ai primi otto posti della classifica. Già confermati il capitano Guglielmo Serazzi e Gianfranco Falcone si resta in attesa di capire quale sarà la posizione di Armando Liguori, mentre non si escludono delle novità clamorose. Intanto è stato reso noto dalla stessa società l'inizio della preparazione che sarà il prossimo 17 agosto.